Vediamoci queste immagini della partita che ha premiato l'Inter e la Sampdoria cercherà di rifarsi poi dopo in Coppo Epa. Vedete a velocità doppia Mancini che riesce a concludere una bella azione e vedete ora a velocità normale, grazie ai nostri te che ci ha compito il piccolo miracolo, proporre ad Altobelli, Pellegrini anticipa, buon primo tempo, gran ritmo di entrambe le squadre, con la Sampdoria che ha accusato le assenze di Sunes e Vialli. Poi per questo intervento sulla palla di Pellegrini e Scanziani l'arbitro al termine di un'azione piuttosto confusa concede un rigore, Bredi lo trasforma ed è 1-0 in favore dell'Inter. Per questo fallo di Baresi su Salsano, altro rigore, Frey si tira da fermo ma che tira da fermo sempre allo stesso posto e si fa parare i rigori. Salsano spreca il buon inizio di campionato sprecando questi palloni, pari impegna Zenga in questa gran parata, ma ci vuole il contropiede dell'Inter per gelare l'ambiente ed è Altobelli che segna questa stupenda rete, 2-0 e da allora, e da allora, meno male che c'è il vecchio Scanziani. Eccolo, gran tiro, gran botta e 2-1 a Teradina Paolo Valenti.